Maggiori controlli e un presidio fisso è quanto chiedono gli esercenti di contrappescherie vecchie dopo il pestaggio di venerdì ai danni di un dipendente di una pizzeria a fine turno. Noi appunto sono mesi che stiamo cercando di parlare con l'amministrazione stiamo cercando di capire come fare per risolvere il problema anche noi comunque con loro. Voi notate un'escalation in questo periodo? Ultimamente sì, diciamo che c'è stato un'escalation in questo periodo, sì. O forse c'è stato un insieme di cose, forse perché sa cosa d'estate c'è anche più movimento, ci sono più locali aperti invece di male d'inverno, con il discorso anche la gente si rinchiude prima a casa, ci sono meno locali aperti, meno bar, quindi generano gente, quindi forse anche per quello diciamo. Quindi la città è un po' più deserta la sera. Vediamo se quest'ora il prefetto ci danno magari un presidio fisso, cerchiamo di capire un attimo di ragionare questo problema. Un'escalation di violenza che denunciano da qualche tempo e che si consuma in pieno centro storico soprattutto la sera quando la città si spopola. Quello che abbiamo visto ultimamente è un aumento di questa, come si può dire, degenerare di comportamenti di molte persone. Ci sono soprattutto persone di colore che tendono ad aggredire. L'altra sera è stata aggredita una persona, io avendo il locale qua dietro con le telecamere, ho fatto la richiesta di ripresa delle telecamere a modo che potessi andare a fare denuncia dove si vedono questi due delinquenti. Noi fino adesso problemi non abbiamo avuti, però la paura c'è. Bisogna sempre stare lì con gli occhi aperti e vedere chi ti passa davanti, dalle telecamere. Magari di sera, di sera quando ci sono i locali aperti, i ragazzi che girano, se magari ci sono più controlli anche per la loro sicurezza. Intanto tra loro c'è chi propone una forma inusuale di protesta come la chiusura simbolica dei negozi per qualche giorno. Sicuramente sta tornando come quest'inverno quando c'era un bel po' di gente che girava, un po' di gente strana che girava di notte, quello sì. Ci sono gente strana che gira, gente che si impossessa della città e non ci sono controlli, assolutamente. Quindi voi cosa chiedereste qui? Un presidio fisso, più controlli? Cosa chiedete? Noi chiediamo controlli perché qui non vedi mai passare vigili, polizia o qualcun altro, non vedi niente.